Tra le domande che applicano l'umanità, ci sono loro qui a mostrarci la verità. Usando fantasia, equazioni e animazioni, di mondo ed universo capiremo le funzioni. Davide astrofisica, come una stella illumina, metti invece di materia, quarto stato trasferà. Angelo cosmologo, fisico teorico, georgia, social manager, che gruppo sai chi è? Ehm, la domanda è malposta. Sai chi sono? Cane e babbuino, cane e babbuino, cane e babbuino, non sono fisica. Cane e babbuino, cane e babbuino, cane e babbuino, anche a buonità. Cane e babbuino, cane e babbuino, cane e babbuino, come faranno i non arrivati. Siamo qui non solo per raccontare, ma anche per ascoltare e giocare insieme a voi. Bazzi anche tu, cane e babbuino, live. Mamma, cane e babbuino, stanno andando live! Buonasera! Buonasera. Mi sono smutato per sbaglio mentre canticchiavo, quindi mi sa me hanno sentito cantare, però vabbè, è andata così. Si è svelato l'altarino di Angelo che canta male. Ok, sono un po' confuso qua con... Perché? Ah ok, no, perché tutta questa schermata mi è nuova, non so come utilizzarla. Ok. In basso c'è Show Chat, no? Sì, sì, ora sto vedendo. Perfetto, c'è Private e Stream. Ciao. Ok. Ciao Matteo, ciao Dan. Annaggia Dan, questa cosa. Ma abbiamo messo... Cioè, Davide e Matteo in realtà hanno messo che loro con i punti canali possono riscattare delle cose, tra cui c'è Angelo senza occhiali. E Modanieri, Dan l'ha riscattato e quindi io andrò senza occhiali adesso. Ciao Cassettiera. Io non leggo un cavolo adesso i nomi di Twitch. Giulia... Ciao Giulia. Giulia Nappo. Sì, è una mia amica. Dai, gli è benvenuta. Ad Anna che gode. No, io non sono uno di quelli ciechi senza occhiali. Però, insomma, da lontano, di sera, i nomi della chat non è che li leggo benissimo, ecco. Intanto com'è? Ce sto laggando malissimo? No, sei bellissimo, sei perfetto. Sei tranquillo. Grazie. Ciao Fra, ciao Pingu, Pink, scusa, Pink. Pink guy, Pink guy. Eh, lo so, ragamata, qua, cioè, la cappa è proprio andata, capito? Però, bene. Senti, ma tu mi senti da questo microfono o da un altro microfono? Io ti sento benissimo con quel microfono. Con questo microfono. Ok, no, perché l'altro giorno sono stato tutta la live con il microfono del computer, non me ne ero accorto. Invece, ok, bene. Allora, come stai? Tutto bene, dai. Si inizia, si prova ad iniziare questa nuova avventura. Dai, cavolo, dai. E per, almeno parlo di qualcos'altro sui social, oltre alla religione, quindi ci sta. E non litighi con la gente, almeno su questi argomenti non penso si litighi troppo, diciamo, dai. Speriamo. Non ci fa mai. Arriva qualche negazionista dell'evoluzione. Ah, guarda. In effetti non ci avevo pensato, quindi ci potrebbe essere, se ci potrebbe stare. Bene, bene. E io ti do il benvenuto ufficiale. Grazie. Da parte di tutti, anche se non ci sono. Giulia, grazie per il follow. E speriamo bene, dai. Ci divertiremo, cacchio. Non vedo l'ora. Sì, posso... Io ho preparato una presentazione, quindi molto semplice, niente di particolarmente complesso. Anche un po' per presentarmi, perché non tutti mi conoscono, quindi è giusto che io mi presenti. Chi è questo? Certo. E... Vado? Un attimo proprio. Dimmi tu quando sei pronto che io ti metto. Ciao, heretic apt child. Apto child. E-NTP è un tipo di personalità. Ah, E-NTP è un tipo di personalità? Cioè? Spiegami. Eh, beh, significa che sei, mi sembra, estroverso. Eh, poi non mi ricordo bene gli altri, però che sei tipo... Ah, in questo senso. Non avevo capito. Ok. Ok, bene. Ok, per me possiamo andare. Sì, sì, sì. Davide ci chiede di cosa si parla oggi. E-NTP è un attimo che però non spoileriamo, metto. Ti tolgo. Ok. Oggi Orazio inizia ufficialmente l'avventura su cane babbuino. E quindi scopriremo insieme che cazzo è Orazio fondamentalmente. Cioè, che sa... cosa ci racconterà Orazio su... Allora, sì. E quindi lo scopriamo. Sì, se vuoi puoi metterla. Vado. Sì, sì. Allora, cosa studia? Innanzitutto mi introduco. Io mi chiamo Orazio. Ok, potete chiamarmi Orazio. Ho 24 anni. Ok. E sono un biologo. Quindi non c'entro... Sicuramente stasera non sentirete parlare di buchi neri, materia oscura. Potremmo anche parlarne, ma io non ne so molto. Quindi lasciamo fare le cose agli altri. Quindi stasera sentirete parlare di biologia, di una particolare branca della biologia, cioè la biologia evoluzionistica. Che è la biologia che studia l'evoluzione, sostanzialmente. Ok. E avevo iniziato, avevo fatto questa presentazione e il mio percorso c'è scritto che va dalle piramidi al DNA delle farfalle. Infatti mi piace come idea. Perché dalle piramidi? È perché io in realtà nella mia vita ho avuto un sacco di passioni. Sono una persona molto... uno può dire o eclettica oppure molto confusa. Perché avevo avuto tante passioni. Infatti qui c'è alcune delle mie passioni, no? Io ho iniziato... All'elementario volevo fare l'archeologo. Ero affascinato dall'antico Egitto e volevo fare l'archeologo. C'è stato un periodo in cui ho letto tantissimo sull'Egitto. Costringevo i miei genitori a comprare delle enciclopedie. Studiavo come facevano la mummificazione, i geroglifici, la mitologia egiziana. Quindi ero super appassionato di queste cose. Questo era il mio sogno. Sai che Matteo ha fatto un corso di egiziano durante la quarantena e se non sbaglio stava facendo la parte 2 adesso. Quindi lui sa leggere un po' i geroglifici. Che figata. Che figata. Io ci avevo provato a iniziare a studiare come si leggono i geroglifici, avevo fatto qualcosa, ho letto alcuni testi. Poi ho lasciato perdere perché non potevo tirerci dietro. Però è ancora una passione che ho. Figo, cavolo. Molto bello. Poi sono passato a un ambito completamente diverso. Per diverso tempo volevo fare il criminologo. Perché... Hai d'accordo con la mia ragazza un po'? Volevo fare il... Ah, è criminologa? Lei studia criminology e international security qua. Anche se vuole più stare sull'international security. Però comunque fa un po' ste robe, vorrei. Ok. No, io volevo fare il criminologo perché avevo cominciato... Era un periodo in cui ho cominciato a leggere tanti thriller e polizieschi. E mi affascinavo nei serial killer. Volevo studiarli. Aiutare la polizia a catturare altri serial killer, eccetera. Quindi quella è stata anche un'altra mia passione. E poi sempre sulla stessa linea, Dondo, sono passato dalla psicologia. Quindi la criminologia è un po' una branca della sociologia e della psicologia. Quindi analizzi il crimine da quel punto di vista. Sono passato invece a una cosa molto più materiale e biologica. Volevo fare l'antropologo forense. Ah. Infatti se vedete lì c'è uno scheletro. L'antropologo forense è quello che studia i resti umani decomposti, scheletrizzati, carbonizzati, mummificati. Nel contesto però di indagini di polizia. Quindi non antichi. C'era, mi sono perso una domanda. C'è Fra 91 che ti chiede se ti piacerebbe tornare in quegli anni. Immagino in tenda... Quando ero piccolo. No. L'antico egizio. Egitto, secondo me, intendo. Oh, oddio. Neanche più di tanto perché c'era la schiavitù. Sì. Quindi non lo so se mi piacerebbe vivere in quei tempi. Sicuramente mi piacerebbe osservarli però dall'esterno. Magari non vivendo nella società. Perché era comunque una società molto discriminatoria. C'erano un sacco di problemi, eccetera. Un tuffo breve, diciamo sì. Un tuffo lungo. Eh, magari no. Magari no. Anche quel cacchio proprio. Esatto. E poi... Io per un bel po' di tempo, fino al secondo superiore, volevo fare fisica. Volevo diventare quello che sta facendo... Quello che sta facendo Angelo. Volevo diventare un fisico teorico. Volevo diventare un cosmologo. E il mio amore per la fisica, in particolare per la cosmologia, è nato leggendo Stephen Hawking. Il primo libro che ho letto di divulgazione scientifica è stato dal Big Bang ai Buchi Neri. È molto bello quello. E io quando lì ho detto, cavolo, ci sono così tanti misteri che meritano la nostra attenzione, sono super affascinato dall'idea di capire come funziona l'universo, a grandi scale. Da dove deriva, ha avuto un inizio, non ha avuto un inizio, se ha senso parlare di inizio oppure no. A me interesserebbe tanto saperlo. Eh, lo so, anche a me. Lo sapremo forse un giorno. Eh, speriamo, non so se saremmo vivi. Però... Non lo so. Non sono ottimista io, però vediamo. E quindi diciamo che se ora avete un biologo a parlare è perché ho deciso di non diventare un cosmologo. Uno perché io non sono un genio della matematica. Cioè nel senso me la cavavo. Grazie a quattro omni. Vai, vai. Cioè io non... Me la cavavo con la matematica, non facevo schifo, comunque avevo voti alti, però mi rendevo conto che c'erano altri miei compagni che la matematica la capivano subito senza neanche bisogno di pensarci due volte, mentre io dovevo metterci un po' più di impegno per raggiungere i loro stessi livelli. Quindi un po' questa cosa mi aveva fatto sempre paura, e sapendo che comunque la fisica c'ha tanta matematica, tanta matematica. È matematica. È matematica appunto. Eh, ho detto magari evitiamo di andare in un ambito dove non sarai, non puoi dare il massimo di te. Fortunatamente al terzo superiore ho scoperto qualcuno. È questo. Esatto. L'ho chiamata la rivoluzione darwiniana della mia vita, della vita di Orazio, perché senza senso sono entrato un giorno in una libreria e ho visto questo libro che si chiama L'orologiaio cieco di Richard Dawkins. L'ho letto, io non avevo... L'evoluzione la conoscevo più per quello che avevo studiato un po' alle superiori, no? Niente di particolarmente approfondito. Ti raccontano un po' la storiella. Esatto, prima c'era l'australopiteco, poi c'era questo, poi c'era quest'altro, poi c'era l'uomo. E quindi questo era il massimo che sapevo io di evoluzione. Leggo questo libro e rimango folgorato. Più folgorato di quanto avevo letto, di quando avevo letto dal Big Bang ai Buchi Neri. È sempre divulgativo questo, giusto? Questo è sempre divulgativo, assolutamente. Sì, sì, infatti lo consiglio a tutti. Se volete un bel libro sull'evoluzione, io vi consiglio sempre L'orologiaio cieco di Richard Dawkins. E quindi leggo questo libro e rimango completamente folgorato per un motivo abbastanza strano. Cioè nel senso che tutti che conoscono meno la scienza sanno che i Buchi Neri sono misteriosi. No? Tutti sanno che l'origine dell'universo è misteriosa. Ci sta, sono cose super misteri. Però, e quindi siamo, e noi siamo talmente abituati ad avere a che fare con degli esseri viventi, perché la nostra realtà, che quasi ci siamo abituati a vederli, no? Quasi non costituiscono un grande mistero per noi. Le farfalle, le formiche, noi esseri umani, gli elefanti, ovvio, ci sono. Stanno là. Stanno lì. Però il fatto è questo che, avendo letto prima Stephen Hawking, io avevo una prospettiva, non so se ce l'hai anche tu, Angelo, visto che comunque ci lavori con queste cose. Ogni tanto ti viene da pensare all'esterno della Terra, cioè di guardare l'universo dall'esterno, no? Eh, sempre. Tutte le galassie, eccetera, no? Quando ho letto l'orologiaio cieco, mi sono reso conto che se tu guardi la vita non da prospettiva di un essere umano, ma dalla prospettiva di un osservatore esterno, che guarda tutto l'universo, ti rendi conto che su questo pianeta è successo qualcosa di veramente strano. C'è veramente tanto strano. Se tu guardi a tutto l'universo, più o meno ci sono sempre le stesse cose, rocce, radiazioni, in un certo senso un po' noioso l'universo sotto sto punto di vista. Ma sì, dai. Ci sono sempre più o meno le stesse cose. Poi vai su un pianeta e trovi qualcosa come un canarino o un cactus. C'è una complessità su questo pianeta che, in generale, l'universo a grande scala non trovi tanto. E noi dobbiamo spiegarla. Dobbiamo capire perché c'è. E quindi ho deciso di... Ho letto anche un altro libro che consiglio sempre, l'ho messo lì, che si chiama Il più grande spettacolo della Terra. Sempre di Richard Dawkins. Consigliatissimo. Divulgativo sull'evoluzione. Andatelo a leggere. Non mi pagano, quindi non sto facendo pubblicità, però andate a leggere sto libro perché è bellissimo. Aspetta, c'è Folgore che dice Odio l'idea di interrompere Corazio con una notifica. Appena fate una pausa rinnovo la sub del canale. Grazie. Penso che Corazio non si offende se lo interrompi con la notifica. No, no. Anzi, ragazzi, se volete farmi domande, per me va benissimo. Sì, c'era Efra che ti chiedeva se preferisci la fisica o la matematica. La fisica. Desistamente la fisica. Non che non trovi affascinante anche la matematica, eh. Però più la fisica. Ha più cose da dire, secondo me, sulla nostra realtà della matematica. Sì, è che la matematica devi saperci mettere la fisica dentro, se no non capisci che stai a fare fondamentalmente. Io vedo la matematica più come uno strumento. Non so tu. È che, cioè, la matematica, secondo me la differenza fondamentale è che tu puoi fare matematica senza pensare a niente di fisico. E puoi fare delle cose super fighe, a me piacciono un po' i trick matematici tutti strani, che poi non hanno magari un riscontro fisico, no? E quindi con la matematica ti perdi un po' nei pensieri. È un po' come se sfilosofeggiassi, capito? È un po' come se ci mettiamo a parlare dell'origine dell'universo, eccetera. Filosofeggiamo, non c'è una cosa troppo concreta. Esatto. Invece la fisica deve rispettare certi canoni per descrivere la realtà, quindi è un po' diverso. Poi parli con uno che adora la matematica, quindi ho fatto delle cose più matematiche possibili che potesse fare un fisico nella mia carriera. Eh, effettivamente fisica teorica è quella zona, no? Grigia tra la fisica e la matematica. Sì, poi quello che ho fatto io in particolare è proprio una via di mezzo tra fisica e matematica. Sempre un po' più spostato sulla fisica perché ci metto le cose fisiche, però c'è una strazione gigantesca in pratica. C'era Giulia che diceva che adora anche lei Dawkins, però non ha mai letto l'orologiaio cieco. Quindi se lo leggerà dopo questo consiglio. Ma voi, e tra l'altro, voi sapete perché si chiama, c'è il titolo perché orologiaio cieco a parlare di evoluzione? Cioè che c'entra l'orologiaio perché è cieco? Allora, questo ha a che fare un po' con la storia, quindi già cominciamo a entrare nel vivo della situazione. Nel 1800, nel XIX secolo, c'è stato un vescovo, ora mi ricordo esattamente la carica, non so se era un vescovo, comunque era un uomo di chiesa, che si chiamava William Paley, era inglese, ok? Che ha scritto un trattato che si chiama Teologia naturale, ok? E lui ha praticamente dedotto l'esistenza di Dio a partire dagli organismi viventi. Lui diceva che gli organismi viventi sono talmente complessi, se tu vai a analizzare la loro fisiologia, come il cuore funziona soltanto se ci sono i polmoni, i polmoni funzionano soltanto se c'è il sistema circolatorio, quindi tutto perfettamente calibrato, tutto perfettamente in armonia, che l'unico modo che abbiamo per spiegarlo è che qualcuno si sia messo lì, intelligente, e abbia creato queste creature. Perché è impossibile che queste creature siano nate dal caso. Non è possibile. Sono troppo complesse, troppo intricate. E quindi lui ha proposto questa analogia, cioè tu stai camminando su una spiaggia e trovi una pietra. Non ti chiedi chi ha fatto la pietra. La pietra è semplice. Può essere lì per caso. Però fai finta che stai camminando sempre sulla stessa spiaggia e trovi un orologio. A quel punto non puoi più dire che è come la pietra, che c'è lì perché è capitato. C'è bisogno che tu pensi a un orologiaio, orologiaio, quindi una mente. No? Sì, è chiaro. Che si è prefissa. Si è prefisso. Io faccio l'orologio e siccome questo orologio deve avere un obiettivo, lo costruisco in modo che raggiunge quell'obiettivo. Nel caso dell'orologio è di segnare l'ora. È la stessa cosa, lui ha fatto la stessa analogia con gli esseri viventi. Oh, Fulgore ha regalato una sub. Grazie. A S G R T 73, dai. Entrate sul gruppo Telegram per abbonati, mi raccomando. Volente o nolente la chiesa si infila sempre. Sì, questa è Giorgia. Che sta qua dietro. Vabbè, effettivamente è vero. Quindi perché l'orologiaio cieco? Perché con la teoria di Darwin noi sappiamo che la complessità si può evolvere, quindi ci può essere complessità nel mondo, ed è grazie alla selezione naturale, che però non è un orologiaio, quindi non si prefigge, non ha un obiettivo. È un orologiaio cieco, nel senso che si arrangia con le piccole cose che ha. Ok, che figa. Quindi ha una visione corta, a breve termine, tra virgolette, non ce l'ha a lungo termine. È quello che fa sopravvivere adesso. Ok? Quindi questo perché si chiama orologiaio cieco. Bellissimo. Comunque stai facendo una voglia di leggermi, ma ne ho già 10 libri in sospeso da leggermi. Tra l'altro, tra l'altro se... Aspetta un attimo. No, non ce l'ho qua, vero? No, non ce l'ho qua. Vabbè, non importa. Perché anche l'inizio, tipo, è troppo poetico. Comunque, andando avanti. Quindi cos'è che ho fatto? Sì. Recuperiamo, se mi sono perso... SGRT, secondo me... Vabbè, l'ha scritto cosa fa Eorazio perché sono arrivato lungo, però secondo me lo sta capendo. È un biologo evoluzionista e quindi ci sta raccontando cosa fa. Fulgore ci ringrazia e ti ringrazio di nuovo. e fa vedere poi... Ormai la domanda... No, ok. È andata. Secondo molti scienziati il cervello umano è la cosa più complessa dell'universo. Secondo me è davvero così? Ecco, questa era quella che mi mancava. Ok. Omni. Non lo so. Cioè... Nel senso, sicuramente è un sacco complesso, però dire che è più complesso dell'universo non saprei, in realtà. Io credo che qui lì intenda più complesso all'interno dell'universo, non più complesso. È caduto. Bene. Ok, non ho capito che stava dicendo. Lui dice più complesso è il cervello umano è la cosa più complessa dell'universo. Cioè, ci sei? Sei tornato? Sì. Ah, eccoti. Ok, sei tornato. Scusate. Ti hai rifrizzato. No, no, scialla. Stavi dicendo che lui dice se il cervello è la cosa più complessa nel senso che l'universo ha creato, diciamo. Sì. Io direi più che altro dell'universo conosciuto. Cioè, non sappiamo se ci sono cose più complesse del cervello umano. Può essere? Sì. Eh, se ci sono altre specie, altre forme di vita, hai detto ci siano forme di vita più, con un cervello più complesso del nostro. Quindi, sì. In generale non saprei. Per quello ho detto no, perché non avevo pensato a questa opzione. Io pensavo intendesse nel senso che il cervello in generale è più complesso di tutto l'universo. Quindi, una cosa, un'analogia del genere secondo me è un po' difficile da fare. però anche in quest'altro caso no, perché se c'è una forma di vita più intelligente, più che più intelligente, c'è con un cervello diverso. Sì. Sicuramente è molto complessa come cosa. Cioè, sicuramente è chiaro, perché sono tantissimi anni che la studiamo e ne sappiamo veramente non pochissimo, però ci mancano un botto di cose. Folgore dice se ah no, aspetta. Ah, Fra sta riformulando la domanda di prima. Dice, se potessi tornare niente nel tempo, dove ti piacerebbe andarne? I tuoi 16-18 anni? Oppure quando eri bambino o quando ne avevi 19-23? Ah, allora, di dollari. Allora, penso alla triennale. Mi sono divertito tanto alla triennale io. Tornerei lì. Sì. Vero? Sì, pure io mi sono divertito un sacco. Forse pure io. I tempi dell'università sono stati più belli. Prima che iniziassi Cane e Babuino, ovviamente, dopo. Eh, vabbè, ovvio, no? Folgore dice se qualche giorno io gli consiglio anche qualche libro di fisica. Sì, assolutamente. Ne abbiamo parlato spesso, però, quando torni in live, ci stanno pure Davide e Matteo, te ne consigliamo altri. ok, ok. Ah, Reddick dice nulla, Orazio è esploso perché ti è arrivato frizzato. E, I, Iosif, Pedro, benvenuto, benvenuta, dice, ciao Orazio, buonasera a tutti. Hai mai sentito parlare del progetto ENCODE? Penso di sì, siccome studi in questo campo. Questo sarà più. Ok, sì, allora, praticamente il progetto ENCODE è un progetto genomico, che si pone come obiettivo quello di identificare tutti gli elementi genetici funzionali del genoma, non mi ricordo se era umano o di qualche altra specie, però comunque, cioè è proprio, è un progetto che serve proprio a caratterizzare tutto ciò che c'è nel genoma umano, sostanzialmente. Minchè. Cioè, perché noi abbiamo il genoma umano completo ormai dal 2000, cioè ce l'abbiamo tutto. Ok. Ci hanno vinto pure il Nobel, se non sbaglio, no? Quelli che... Non mi ricordo. Non mi ricordo. Non sono sicuro. Non sono sicuro. Però noi ce l'abbiamo nel senso che abbiamo le lettere, cioè abbiamo tutta una serie di A, A, T, 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 G, 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 G. Ma una cosa è averlo, una cosa è capire che cosa, cosa c'è scritto, cosa, cosa significa. Quali sono i geni. Ah, non c'è capire questo. Eh, ma nel senso quando l'hanno codificato, significa solo che abbiamo la sequenza. Ok. Però poi devi andare a vedere cosa significano quelle sequenze, cosa fanno, che se sono geni, sono sequenze regolatorie, eccetera. È come se hai un libro ma non conosci la lingua che ci sta scritta, in pratica. Esatto, esatto, esattamente la stessa cosa. Ok, finissimo. Esattamente la stessa cosa. Madonna. Allora, se tu trovi qualche domanda prima di me, così li recuperiamo. Ti l'apro dal computer così non devo scorrere. No, puoi vedere qua su, direttamente da qua, no? Ah, perché poi sennò devi fare... Non lo so, come stai dicendo? Ti dicono fighissimo sto progetto, quindi è un bocca al lupo a te. Secondo me non è molto interessante, a me potrebbe dare risultati interessanti in questo campo di studi. Ah, Isof si intendeva rispetto al progetto ENCODE. Difatti è il raggruppamento di aminoacidi che conta. Ah, dice, di fatti è il raggruppamento di aminoacidi che conta, giusto? Sì e no. Cioè, non è molto chiaro cosa si intende per raggruppamento di aminoacidi. Diciamo che in realtà soltanto una piccola parte del nostro genoma codifica, cioè produce delle proteine. Io non so quanto voi sapete di biologia, però solitamente tu hai il DNA, no? Ci sono tante lettere. Si spiega da un bambino, così lo capisco. Sì, ci sono tante lettere, una sequenza di A, T, G e C, ok? Ora, alcune regioni di questo genoma, alcune sezioni, alcuni paragrafi di questo libro, chiamamolo così, alcuni paragrafi di questo enorme libro, ok? Possono essere letti a tre a tre, tre lettere, tre lettere, tre lettere, tre lettere, tre lettere, e ad ogni lettera corrisponde un particolare aminoacido, ok? Quindi cos'è che succede? Che poi ci sono delle macchinette molecolari, delle piccole fattorie microscopiche dentro le nostre cellule, che vanno a leggere, no? La sequenza di lettere che non lo fanno nel DNA stesso. Tipo il commesso Amazon con la pistolina. Esatto, una sorta... Eh, una bella metafora, mi piace questa. Quindi, perché prima, vabbè, viene trascritto in mRNA, però vanno a leggere, no? E ogni tre lettere, poi loro fanno, ok, qui ci vuole questo aminoacido, qui ce ne vuole un altro, qui ce ne vuole un altro. Mettono insieme questi aminoacidi e questa sequenza poi diventa una proteina che fa qualcosa nella cellula. Detta proprio in maniera molto service. Guarda, a me queste cose mi fanno esplodere il cervello. Cioè, io l'ho studiata tanto biologia a scuola, che ho fatto chimico biologico, quindi tutte queste cose non me le ricordo tanto bene, però tutte queste cose le ho studiate bene. E io impazzivo, cioè, veramente, hai capito? Quando vedi, cioè, facocero, benvenuto. Benvenuta. Un po' come esplorando il corpo umano, che magari per una persona che ha studiato tanto ci potrebbero essere anche delle cose errate, no? O poco precise, però, cioè, alla fine in un certo senso è quello, capito? Cioè, ci sta una popolazione là dentro di esserini. È un universo. È un universo. È un piccolo universo, molto complesso. Ciao, Amadeus. Ma la cosa interessante che vi dicevo prima è che se tu prendi questo enorme libro del genoma umano, sono soltanto, è soltanto una piccola parte, ciao, Amadeus, è solo una piccola parte che viene effettivamente tradotta in proteina. Solo alcuni paragrafi possono essere letti in questo modo e sono una piccolissima percentuale. Il resto del genoma fa altro. Il resto del libro fa altro, non viene tradotto in proteine. La maggior parte, il 99%, fa altro. Non produce proteine. Che spettacolo. Ed è quello il problema. All'inizio sai come veniva chiamato tutto questo genoma in più, che non produceva proteina? Veniva chiamato junk DNA, DNA spazzatura. Perché si pensava che fosse, non facesse niente. In realtà, adesso stiamo scoprendo che le cose più importanti le fa proprio quel DNA che non produce proteine. Giulio, benvenuto. Cioè, quello che loro pensavano che non facesse niente, invece fa un sacco di roba importante. Assolutamente sì, loro pensavano, vabbè, tanto le cose più importanti sono le proteine, il resto, e appunto lo chiamavano DNA spazzatura, saranno soltanto dei resti di antichi virus che sono rimasti lì incastonati. Ci sono anche resti. Noi abbiamo un sacco di DNA virale che c'è rimasto nel genoma da antiche infezioni che sono avvenute nella linea degli ominidi. Ce l'abbiamo proprio dentro. Dentro il nostro DNA abbiamo dei pezzi di virus. Che spettacolo. Esatto. Però se tu poi vai a vedere, in questi ultimi decenni, la maggior parte delle scoperte in ambito biologico è stata fatta proprio sul DNA spazzatura. Si è scoperto che ha a che fare con l'epigenetica, si è scoperto che ha a che fare con la regolazione di quando un gene deve essere acceso, quando deve essere spento, in che parte dello sviluppo questo gene va acceso. Cioè, regolano, è come se fossero dei maestri d'orchestra. Mentre i geni, quelli che producono proteine, sono tipo i mattoni, questa parte del DNA contiene l'informazione per quando, come, in che contesto un certo gene deve essere attivato oppure no. Che spettacolo. Assurdo. E diciamo, sai dire in percentuale quanto DNA conosciamo? Cioè, della sequenza, quanto sappiamo dire cosa fa, più o meno? Beh, allora, non credo ci sia una percentuale giusta, perché una cosa, allora, il problema qual è? Che noi riusciamo adesso a catalogare quasi tutto il genoma umano in delle categorie. Possiamo dire, ad esempio, questa codifica delle proteine, questa è DNA virale antico, questo qui invece produce degli RNA che non codificano, che hanno a che fare con la regolazione genetica. Il problema è che anche se riusciamo a capire quali sono le macro-categorie, pezzo per pezzo noi non sappiamo ancora cosa fanno. Cioè, il singolo pezzo non lo sappiamo cosa fa. Possiamo soltanto dire, probabilmente produce questo, perché ha le stesse caratteristiche di questa cosa che abbiamo trovato da qualche altra parte. Capisci? Sì, 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 ok, ok. Minchia è complicatissimo. Bellissimo. Cioè, Amedeus si dice domani all'interrogazione di biologia, cellule, geni e DNA, quindi mi conviene ascoltare. Ascolta, ascolta, esatto. In bocca al lupo, anzi. In bocca al lupo, infatti. Vai, se vuoi, poi... Sì. Allora, poi va bene, quindi ho amore incondizionato per la biologia e decido di fare scienze biologiche. Quindi vado a Torino per studiare all'università. Quindi ho fatto l'università di Torino. Probabilmente i tre anni più belli di tutta la mia vita, perché a parte che mi piaceva tantissimo, c'era vivere un sogno. Era quello che volevo sempre fare. E poi ho avuto dei coinquilini fantastici, cioè mi sono divertito proprio tanto, tantissimo. La vita da fuori sede. Esatto, gusti per la prima volta cosa significa? Essere indipendenti, questo è il fatto anche. È bellissimo. Quindi è molto bello. Poi Torino a me è piaciuto tantissimo, innamorato, perso. Quindi ho fatto... Sono andato all'università di Torino, tra l'altro lì vedete il posto dove facevo... dove andavo a pranzare fuori, in una pausa tra le lezioni e l'altra, la chiamavamo la Camera dei Segreti, perché c'era praticamente al centro sto coso, no? che scendeva sotto e non si sapeva mai. Era chiuso e non si sapeva dove andà. Cioè, no, non lo sapevamo dove andava. Probabilmente nel locale Caldaie. Comunque c'era la Camera dei Segreti. E alla fine dei tre anni ho fatto una tesi triennale non sperimentale. All'Università di Torino, almeno al Dipartimento di Biologia, non ci sono tesi sperimentali. È tipo tesi, come che si dice, riepilogativa. Cioè, tu vai a leggere la letteratura... Sì, compilativa. Compilativa, esatto. Come si dice, sì. Una tesi compilativa. Quindi fai un po', ti scegli un argomento, ti leggi la letteratura e fai una sorta di review, no? Una sorta di riassunto dello stato dell'arte, della ricerca. Penso che in generale la tesi triennale nell'ambito scientifico è tutta così. Il mio fratello, per esempio, ha fatto una cosa un po' sperimentale, invece. In Biologia, pure lui, alla Sapienza. Però se l'è andato a cercare lui, ha studiato il comportamento di alcuni topi in microgravità. Figata! Sì. E doveva andare pure a vedere l'esperimento che stanno facendo in Danimarca, se non mi ricordo male, o in Olanda. Però poi il simpaticissimo amico che ormai ci segue da due anni è arrivato e l'ha dovuto da fare da casa la tesi. Il nostro best friend, ormai, no? Qua come dice, come mai da fuori sede invece che studiare in Sicilia? Allora, il motivo per cui ho scelto di andare a Torino, c'è un motivo personale che non dico, perché è personale. Per bene. Però c'è un altro motivo anche accademico, cioè che Torino era l'unica università in cui già dal secondo anno potevi scegliere un particolare curriculum. Cioè ti potevi già specializzare. Ora, io non sono... Io ho scelto biologia non per fare medicina. Il problema è che molto, molta biologia al giorno d'oggi viene impostata come se tu dovessi fare scienze biomediche. Sì. E a me sta cosa non piaceva perché io non sono appassionato di medicina, non ho scelto di fare biologia per medicina. Mentre a Torino c'era la possibilità dal secondo anno di scegliere un curriculum che era il curriculum ecologico ambientale in cui c'era come materia biologia evoluzionistica. Ok? E quindi io ho detto siccome volevo fare biologia evoluzionistica ho detto secondo me è giusto iniziarci da subito. E quindi l'ho fatto. Ho fatto questo il curriculum ecologico ambientale, ho fatto il corso di biologia evoluzionistica con un professore che purtroppo poi è morto. Sì. Con cui tra l'altro dovevo fare un tirocinio. Cioè è morto proprio nel periodo in cui io dovevo fare il tirocinio con lui. Che sfiga. Sì, è stato bruttissimo. E alla fine poi alla fine della triennale dovevo fare la tesi e io mi ero appassionato di un argomento perché siccome io sono un po' io funziono a ossessioni. Cioè a seconda di come c'è un argomento io mi fisso su quell'argomento e ragazzi l'argomento con cui mi ero fissato in quel periodo erano gli insetti eusociali. Che li vedete? Ci sono i più famosi sono le formiche, no? Le formiche. Però io ora vi faccio una domanda così interagiamo anche con la chat secondo me è interessante sta cosa. Secondo voi cosa sono? Perché si chiamano gli insetti eusociali? Qual è la caratteristica di questi insetti secondo voi? Che li rende diversi da tutti gli altri? Che fanno parte della comunità europea? Quello ha Quello anche Quello anche hanno la cittadinanza europea questo è assolutamente vero? No infatti io non dico niente perché un po' me ne avevi già parlato però la E e la U non so bene per cosa stanno perché no non saprei dicono collaborano fra loro vivono in comunità hanno legami sociali fra di loro e poi c'era anche questo mi faceva ridere eredica che diceva tu hai frullato farfalle Orazio questo è anche vero però penso che è uno spoiler e questo è uno spoiler esatto e allora assolutamente sì però sì e no vivono in comunità assolutamente sì gli insetti eusociali che sono ad esempio le formiche le api alcune specie di vespe alcune non tutte alcune specie di vespe alcune specie di bombi sapete cosa sono i bombi? sono tipo quelle api pelose che belle che sono grosse che sembrano dei piccoli pelusci con le ali che volano esatto sono carinissimi i bombi e e le termiti questi sono gli insetti eusociali le termiti bastarte quindi i menotteri facciamo un pochettino di biologia perché giustamente facciamo i menotteri che sono api vespe formiche e bombi i menotteri ok e poi abbiamo gli isotteri che sono le termiti sono due gruppi diversi ah sono diverse le termiti non sono formiche no sono proprio due gruppi diversi si 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 sono proprio due gruppi diversi sono similissimi però come aspetto alle formiche sono similissimi ma anche le loro strutture sociali hanno caratteristiche diverse però in realtà raga quello che mi avete detto voi è giusto fino a un punto perché voi mi dite comunicano fra loro vivono in comunità assolutamente sì ma questo queste caratteristiche fanno di una specie una specie sociale non eusociale eusociale è qualcosa in più noi ad esempio siamo primati gli esseri umani siamo primati sociali ma non siamo eusociali per una specie di animali per essere eusociali deve avere una caratteristica ci devono essere degli animali nella comunità sterili che non si devono riprodurre non si possono riprodurre cioè la riproduzione è delegata soltanto a uno o pochi membri dell'intera colonia quella è la caratteristica fondamentale per chiamarsi eusociali c'è quindi la formica non so c'è la formica regina la regina c'è anche la formica regina sì ok quindi c'è la formica regina è l'unica che fa che fa le formiche la sapevo sta cosa ma non avevo pensato in effetti che era questo il senso è vero le altre formiche non sono sterili esatto infatti eo in realtà è una radice greca che sta per tipo buono o super in questo senso sarebbe una sorta di animali super sociali perché hanno quella che si chiama una divisione del lavoro riproduttivo si dividono la riproduzione come se fosse un lavoro tu regina fai i figli te ne stai nella camera più protetta e più sotterranea della colonia noi ti proteggiamo noi non ci riproduciamo perché ti proteggiamo e tu fai i figli che piglia del merda che fanno tutti e due in realtà perché poi effettivamente c'è lei che sta sempre chiusa quelli non scopano cioè ma e tra l'altro tra l'altro se tu vai a vedere nelle termiche nelle formiche queste regine sono enormi sono massicce cioè sono tipo dalle 10 alle 30 volte più grandi rispetto alle caste ad esempio dei soldati sono enormi non si possono muovere spesso per cambiare posto le devono trasportare gli altri perché lei non si può muovere è piena di uova rimane ferma che miseria come a Futurama c'era la fabbrica dello slurp però forse voi siete troppo piccoli non ve lo ricordate perché Futurama andava più di moda quando ero giovine io sabato ho fatto 30 anni comunque sono passato auguri cavolo un bel traguardo angelo è stato traumatizzante infatti ancora lui mi sono ancora ripreso non lo so mi fa stranissimo dirlo basta non dirlo allora eh infatti basta non dirlo allora leggiamoci un attimo un paio di domande perché gpc dice perché io ho un lavoro sono più furbe di noi che accogliamo il lavoro di cura eppure il lavoro normale è la stessa persona eh sì però non lo so gpc non siamo d'accordo la guardo male da qua no c'era Lollo che diceva io ho una colonia di formiche però è appena fondata cinque operaie che figo sì poi c'è sta tutta questa terminologia un po' capitalista no che abbiamo l'ape regina abbiamo i soldati abbiamo le operaie è vero anche la terminologia in un certo senso è influenzata dalla cultura no perché gli abbiamo deciso di dare operaie sì perché dovrebbero essere femmine non la maggior parte guarda nei ad esempio nelle formiche o nelle api la regina è sempre femmina ma perché loro hanno un modo di riprodursi molto strano gli menotteri al contrario le termiti no eh però gli menotteri hanno un modo di le termiti sono aspetta isotteri isotteri menotteri isotteri sì ok o isopteri vedi tu come li vuoi chiamare si possono dire in entrambi i modi però ad esempio nelle formiche e nelle api o negli menotteri hanno un modo di riprodursi strano nel senso che se io ve lo dico voi dite assolutamente Orazio ci stai prendendo in giro no raga non mi sto prendendo in giro è letteralmente la natura che funziona così se io essere umano faccio fichi fichi con un altro essere umano del sesso opposto ok c'è il 50% di possibilità che il figlio nasce maschio o femmina 50% ok non c'è una possibilità in più per una delle due no non c'è una cosa più probabile sempre 50 e 50 ok c'è leggermente un sovra proprio piccolissimo una sovrabbondanza di maschi nella nella popolazione umana pensavo fosse più donne in realtà però era una mia una mia idea forse non lo so forse ho un ricordo sbagliato di qualcosa ma questo ha che fare questo 50 e 50 ha che fare con il modo con cui c'è i nostri cromosomi sessuali come dice sgtr 77 73 cioè che noi abbiamo un sistema di determinazione del sesso del tipo xxxy ok quindi se tu puoi di fare il calcolo con il quadrato di pannet scopri che è 50 e 50 ok invece negli menotteri è diverso ok perché cosa succede la femmina produce le uova quindi a metà del suo genoma perché tu sai cioè sapete quando noi produciamo i gameti io produco gli spermatozoi e gli altri le femmine producono gli ovuli dimezziamo il genoma non glielo diamo tutto glielo diamo una metà perché poi quando si devono unire devono riformare l'organismo diploide ok sì perfetto non ti si sente più aspetta non so che è successo non ti sento più potrei essere io per qualche assurdo motivo non credo voi lo sentite? no audio ok però a me mi sentite a me mi sentono ok non so che è successo allora ok grazie grazie ragazzi ora si è giusta però aspetta ti sei mutato da solo forse prova adesso ah no prova no prova a uscire e rientrare beh ragazzi dai bisogna calibrare un po' piano piano calibriamo noi ci abbiamo messo un anno ad arrivare ad un livello che ancora un po' di problemini qualche volta ce li abbiamo quindi Giulia Napporazzi è stato mutato dai religiosi bigotti ma non l'avranno vinta brava spettacolo allora vediamo se è fatto che avete fatto tutte domande a lui e io un po' di biologia alla nascita più ma questa volevo leggere quella di Giulia Nappo alla nascita più maschi ma più avanti col tempo più femmine perché le donne tendono a vivere di più no io ti risponderei sì però c'è bisogno sempre dell'esperto io ti do l'opinione che ti darei per farci una chiacchiera al bar io e te quindi non saprei però sta cosa mi ha fregato che era 50 e 50 non lo sapevo da poi andamela a leggere sono curioso per perché eccolo is back ecco ti si sente credo ci siamo sì sei un po' laggato mi sa ma ci sei ok ma non capisco se mi rispondi tu con calma o arrivi in ritardo io come adesso come mi sentite eh bene ci sei ok ci sei ci sei sei tornato normale secondo me ok raga fatemi fatemi sapere se si sente si va possiamo posso continuare sì secondo me possiamo continuare sì 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 si sente sei tornato normale per il ritardo credo che se dato un po' di tempo si riaggiusta perché prima è stato così sì sì diamogli un attimo ma si riprende dico love schetz ti dice ciao razio ciao allora c'erano c'era una domanda lunghissima che non ho letto quindi lo leggiamo insieme io sif pedro dice ah no forse era una risposta a paolo paolo 88 ma dove sta paolo 88 già che si parla di biologia ed evoluzione di cosa risponderesti a chi continua a dire che nell'evoluzione della scimmia all'uomo c'è un anello mancante eh questa è una bella domanda secondo me perché è una cosa si sente un botto quindi vorrei proprio sentire la tua opinione allora la tua opinione cosa dice la scienza sì allora in realtà questa storia dell'anello mancante è è un fraintendimento che è di epoca tardo-vittoriana cioè nel senso in passato così la gente che ha letto per la prima volta la teoria di Darwin ha pensato che ci fosse una forma intermedia tra tutti gli esseri viventi cioè se tu prendi una lumaca e prendi un essere umano ci deve essere da qualche parte un essere che è metà uomo e metà lumaca e e metà lumaca quindi cos'è questo è così è nato il come dire il mito dell'anello mancante in realtà gli anelli mancanti se così le vogliamo utilizzare sono stati già trovati perché noi abbiamo una marea di fossili di diversi specie di ominidi che connettono la linea dell'uomo a quella degli scimpanze ce li abbiamo ce ne abbiamo veramente tanti che vanno dai 7 milioni di anni fa al presente iniziamo con ce ne sono ad esempio c'è Ceylantropus c'è Ardipithecus c'è Australopithecus c'è Paranthropus ci sono tantissime specie del genere omo omerectus omoabilis omogeorgicus omo edelbergensis obontus ce ne sono tanti tantissimi quindi sta storia che non c'è l'anello mancante non vale più c'è magari valeva in passato quando non si conoscevano ancora tutti questi fossili ma adesso li abbiamo sì sì questa è una cosa che secondo me sono un po' le non è una leggenda metropolitana perché appunto esce un po' da qualcosa di confusione però è quello che tutti più o meno sanno perché mi ero dato da piccolo pure io lo pensavo c'era un anello mancante tra uomo e scimmia però sì ok allora ah poi Giulio diceva che ti avevano mutato i religiosi bigotti ma non l'avranno vinta ah sai che c'era Uccio che mi sa l'aveva già scritta sta domanda se conosciamo l'universo 25 scusa Uccio ma avete scritto tanto me lo sono perso no no allora non mi ricordo cos'era quest'universo 25 cos'era tipo un esperimento di microcosmo no non me lo ricordo non lo so io conosco biosfera 2 e 2 perché il primo non so perché non è andato il primo mi trova delle cose behavioral sink i subtermi no però aspetta perché mi trovo a sta cosa Uccio che è? perché mi trovo a roba in spagnolo se non in inglese come desena un'utopia este fue il punto della paese non so lo spagnolo Uccio mandami un link così poi lo leggiamo così lo diciamo anche a voi quello che ha scritto invece ora Yosif Pedro sai che alcuni ritengono che dei pezzi del nostro genoma siano dei rimasugli dei Neandertal non so se sia tanto verificabile come ipotesi però l'ho già sentita sta cosa assolutamente vero in realtà è super verificabile questa cosa perché noi abbiamo il DNA dei Neandertal ce l'abbiamo ormai un grande scienziato tedesco che lavora al Max Planck Institute è Svante Pabo lui è stato un pioniere cioè è stato quello che ha estratto per primo il DNA antico da delle ossa di Neandertal e siamo andati a vedere ci sono dei modi non pensate che sia così semplice ci sono dei modi che tu vai a vedere il DNA di una specie certe specie hanno particolari sequenze di DNA che non trovi in altre specie quelli si chiamano in termine tecnico si chiamano aplotipi come una sorta di marco da bollo che ti fa capire questo pezzetto di DNA si trova sempre in questa sequenza cioè c'è sempre la stessa sequenza di lettere mentre negli esseri umani si trovano altri aplotipi ok ecco noi siamo andati a vedere che effettivamente nelle popolazioni attenzione in tutte le popolazioni umane tranne quelle africane tranne quelle africane ci sono dal 3 al 4% del DNA di DNA Neandertaliano che tra l'altro è stato collegato a un sacco di malattie tra l'altro l'ipertensione il colesterolo però anche ad alcune sì sì non lo sto scherzando che era una specie di merda diciamo questa cosa cioè esatto non lo sto scherzando effettivamente è vero questa cosa quindi è stata collegata ad alcune patologie cardiovascolari ma anche ad esempio ai capelli rossi perché probabilmente Neandertal avevano i capelli rossi e le felidi le lentigini mentre noi che uscivamo dall'Africa non ce l'avevamo noi eravamo neri di pelle scuri non eravamo i Neandertal si erano stanziati in Europa Europa centrale Europa del nord molto prima che l'homo sapiens uscisse dall'Africa quindi loro già si erano adattati all'ambiente dell'emisfero boreale erano diventati più chiari di pelle più chiari di capelli perché si stavano adattando a quell'ambiente lì poi noi siamo arrivati dall'Africa e abbiamo colonizzato le stesse zone abbiamo fatto un po' di fichi fichi con loro poco in modo abbiamo in senso catturato alcune parti del loro genoma e poi per un motivo per un altro che ancora è un mistero non si sa perché i Neandertal si sono estinti non ci sono più siamo l'unica specie di esseri umani esistenti però dovunque andavamo Satiens moriva tutti gli altri non voglio essermi perso mentre mi reagivo alla chat cioè noi che siamo arrivati dall'Africa non noi cioè una specie è arrivata dall'Africa quindi ci siamo mischiati con i Neandertal cioè noi siamo una specie di misto tra la popolazione che arrivava dall'Africa e i Neandertal sì ma relativamente poco si potevano accoppiare no? il problema è questo allora immagina questo noi e i Neandertal siamo cugini noi non siamo cugini perché discendiamo abbiamo un antenato comune che è vissuto in Africa che si chiama Homo Heidelbergensis ah sì sì l'ho sentito sì 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 c'era questa specie di uomo questa specie di Homo Heidelbergensis che viveva in Africa cosa è successo? che una popolazione di Homo Heidelbergensis è uscita dall'Africa ok? ha colonizzato l'Europa si è staccata non si è più riprodotta quella popolazione che era in Africa ed è diventato l'uomo di Neandertal sostanzialmente ok poi noi ci siamo evoluti in Africa sempre in Etiopia sud l'uomo sapiens è nato più o meno in quella zona l'Africa sud orientale quindi Etiopia Kenya Tanzania quella zona lì noi lì siamo nati quella è la nostra culla la culla dell'umanità infatti si chiama ok poi siamo usciti ci siamo un po' abbiamo ci sono divertiti un po' con i Neandertal mettiamola così perché io avevo sentito che tipo i Neandertal si sono estinti una delle varie teorie potrebbe essere oltre al fatto che erano un po' più rimbambiti e quindi socializzavano molto di meno rispetto a noi cioè proprio nel senso che rimanevano in gruppi molto piccoli non creano delle società grandi e poi per il fatto che mi sa visto che le nostre donne erano fiche i Neandertal maschi si accoppiavano con le Sapiens femmine però essendo sterili non facevano figli e quindi non si riproducevano i Neandertal una cosa del genere avevo sentito però potrebbe essere pure allora questa l'ultima mi sembra un po' difficile da credere anche perché se abbiamo dal 3 al 4% del genoma significa che in linea teorica gli ibridi vivevano abbastanza da continuare a riprodursi altrimenti noi non avremmo quei pezzetti di genoma nel nostro corpo nel nostro DNA se ce li abbiamo è perché alcuni ibridi nati da Neandertal e Sapiens hanno vissuto abbastanza si sono riprodotti a loro volta e sì ci sono varie teorie su come sono in realtà morti Neandertal probabilmente quella che hai detto tu è quella che mi convince di più la prima non mi ha convinto quella là sull'organizzazione sociale perché noi siamo siamo una specie che ha una grande capacità di organizzarsi in grandi gruppi e non pare che Neandertal siano stati così si pare che erano un po' sociali e poi pure la cosa del riprodursi con tuo cugino tua cugina esatto funziona male ovviamente allora aspetta Uccio ho visto il link e ho anche capito di cosa parli però voglio vedere se in chat c'è qualcosa a questo tema così non cambiamo è molto figa la cosa che ha mandato Uccio noi ce la leggiamo a Matteo si dice se le persone che vivono in Africa hanno più melanina quindi se non sbaglio un gene diverso dal nostro rispetto a noi che viviamo in Europa è data è data la differenza di gene si può dire che siamo una specie differente quindi due discendenze diverse per un gene dell'uomo sapiens e perché qua secondo me manca che io mi confondo sempre quando fai la classificazione no? cioè cos'è un genere cos'è una specie cos'è la famiglia e tutte quelle robe ok allora innanzitutto dobbiamo raga dobbiamo cioè dobbiamo sapere cosa intendiamo per specie non è una cosa semplice per niente per niente tant'è che molti nell'ultimo periodo in biologia evoluzionistica stanno addirittura pensando di abbandonare il concetto di specie perché ha un sacco di problemi ha veramente un sacco di problemi e analizzando con le nuove tecnologie ci stiamo rendendo conto che causa più problemi di quanti ne risolve perché noi abbiamo sta mania come esseri umani di categorizzare in pacchetti distinti discreti fenomeni che di per sé sono continui malleabili sfumati ok la stessa cosa succede un po' con le specie però se la distanza è abbastanza grande funziona ora solitamente cos'è che si dice se voi per gli gli esseri viventi che si riproducono sessualmente quindi che hanno la riproduzione sessuale tu hai due specie quando prendi una persona un individuo da una specie un individuo da un'altra specie li fai accoppiare e o non si accoppiano completamente se si accoppiano lo zigote cioè l'embrione fallisce non dà origine a nulla ok ok quindi questo sarebbe la sarebbero due specie diverse ci sei ci sei ok mentre non si può dire la cosa non si può dire di noi degli africani e dei non africani perché noi con gli africani ci possiamo fare figli tranquillamente e non c'è questa grande distanza genetica raga noi siamo una delle specie più giovani su questo pianeta risaliamo a circa 300.000 250.000 300.000 anni fa come Homo sapiens piccolissimo nella scala dei tempi evolutivi è piccolissimo non abbiamo avuto tempo di differenziarci così tanto siamo giovanissimi mentre specie più lontane che sono sono separate per milioni di anni magari non si possono più riprodurre per esempio le scimmie no? le scimmie esatto le scimmie non penso si possano riprodurre che ne so un babbuino con un no non mi viene un altro scimmio con un macaco no no assolutamente non si può fare è una cosa simile no? senza averli tra qualche milione di anni no vabbè però non penso che nel nostro caso succederà da noi no lo sai perché? perché non c'è non c'è una separazione c'è tanto flusso di geni quindi è tutta amalgamata la situazione se tra i nomolassi per esempio una specie su un altro pianeta con nessun contatto con la specie in quel caso si allora si in quel caso si potrebbe succederebbe chiaro fighissima sta cosa isof Pedro intanto dico una cosa state scrivendo un sacco di roba se ce la perdiamo riscrivetela non vi fate problemi perché secondo me qualche bel commento l'ho perso però ah ecco questo mi piaceva bielino che dice è possibile combinare il dna umano con quello animale per fare cosa? il problema è lì per fare spiderman tutti potrebbero essere Peter Parker no no cioè io posso farlo tranquillamente aga posso mi posso mettere al computer prendere il genoma umano il genoma di un altro animale utilizzare un semplice text editor metterli insieme combinarli e dire a una ditta producimi un pezzo di questo dna lo possono fare il problema è che non c'è una cellula che sarà in grado di leggere quell'informazione e di fare cose sensate perché è come se tu prendessi due linguaggi diversi li metti insieme non li puoi fare non c'è una struttura che li legge e li può tradurre in maniera sensata ok quindi non succederebbe il casino più totale non ci sarebbe nulla di interessante che succede tra virgolette però se le specie sono molto vicine quello è un altro discorso se le specie sono molto molto vicine i linguaggi sono abbastanza simili allora magari lì qualcosa si può fare ma se prendo un mio gene e il gene di un insetto capite che è troppo diverso come il mulo e il bardotto no che sono il mulo e il cavallo femmina è l'asino maschio no il contrario l'asino femmina è il cavallo maschio mentre l'asino femmina è il cavallo maschio è il mulo e il bardotto invece è il contrario l'asino maschio è il cavallo femmina è la stessa cosa sono due specie simili che però quando generano parole la parole è un po' rimbambita perché sia il mulo che il bardotto non si riproducono esatto poi mi dicono e se si crea una cellula artificiale per leggere tanti tipi di linguaggio assieme il problema è che per creare una cellula in grado di leggere quei linguaggi tu lo puoi fare il problema è che deve essere parte già dell'informazione contenuta nel linguaggio stesso perché la cellula nasce dal DNA cioè il DNA che regola come è fatta la cellula cioè raga questa è una cosa che dovete comprendere molto bene il DNA ha le informazioni per leggere se stesso quando vengono prodotti i ribosomi i ribosomi nella cellula sono quelle macchine molecolari che leggono il messaggio e lo traducono in proteine ma che che fai i ribosomi li fai il DNA stesso per questo quando dico il DNA è un messaggio che contiene le informazioni per leggere il messaggio stesso che spettacolo bellissimo cioè e se GRT che fa una una cosa che ho pensato un po' pure in realtà dice di animali modificati geneticamente se ne fanno tonnellate provo a dire una cosa e poi mi dice se è sbagliato è giusta però secondo me è diverso dire un essere vivente modificato geneticamente dal cioè tipo proprio mischiare due DNA casuali a caso cioè che ne so crei una specie non so fa un esempio però che c'è una caratteristica che ti serve di più un po' come quando si fa le selezioni delle piante no selezioni la pianta che cresce meglio in determinati ambienti eccetera penso sia simile no sì abbastanza simile il fatto è che in quel caso è molto mirata la cosa cioè tu sai che gene sta introducendo ad esempio ci sono nel caso del riso a volte nei paesi più poveri che hanno carenza di vitamina A si inserisce un gene che fa produrre al riso anche la vitamina A ok che non proviene dal riso proviene da un altro organismo ora mi ricordo se era un batterio una cosa del genere però lì è molto mirata cioè tu vai a mettere proprio un gene che fa una determinata proteina quello si può fare quello si può fare assolutamente se però parliamo di mescolare insieme DNA per creare organismi che ad esempio hanno altre caratteristiche fisiche grandi macroscopiche e lì la situazione diventa molto molto più complessa e molto più difficile ancora non siamo a quel punto magari un giorno lo saremo però io ho una mia idea personale che non è niente di scientifico non è una mia idea su questa roba cioè io penso che gli esseri viventi sono fatti cioè si sono selezionati con il tempo con milioni di anni di evoluzione per raggiungere una sorta di equilibrio cioè dove tutte le cosine che stanno dentro il nostro corpo e dentro il corpo di tutti gli esseri viventi lavorano diciamo all'unisono in un certo senso per generare questa cosa che sta succedendo adesso qua e sta succedendo la da te e la da loro se tu la provi ad alterare un po' è come se tu cambi cioè io me lo immaggio sempre come in fisica una posizione di equilibrio non stabile ok cioè tu se tu sei su una collinetta così e ci sta una pallina la puoi mettere in equilibrio però se la tocchi appena la sfiori pam caditi giù quindi mi immagino una cosa del genere quando provo a fare questo tipo di medifiche con la biologia tu alteri l'equilibrio di questa macchina che sono milioni di anni che si evolve e non gli fai crescere in braccio se tu gli fai crescere in braccio in più cioè è semplice la mia interpretazione ma allora io sono perfettamente d'accordo con te perfettamente in realtà in biologia evoluzionistica c'è anche una descrizione matematica di sto concetto che è tipo si chiama adaptive landscape cioè tu fai una funzione di fitness che tu prendi ad esempio un tratto qualsiasi tratto no? e lo misuri e poi fai la funzione di com'è la fitness cioè la sopravvivenza detta proprio semplice dell'organismo e hai queste curve le puoi fare con più tratti contemporaneamente hai queste curve complicatissime con dei picchi di fitness delle valli enormi separate da tanti piccoli picchi intermedi cosa succede? che un organismo è solo in un punto in quello spazio ok? quando c'è una mutazione quello che succede naturalmente lo spostamento è sempre piccolino quindi loro se sono vicini a un ottimo si spostano sempre più o meno nella stessa zona più la più la distanza più la mutazione è grande più è probabile che cadano in qualche in qualche buco e quindi abbiano una fitness bassissima e non si riproducono più per questo le mutazioni vengono accumulate piano piano perché si devono muovere sempre con circospezione no? eh sì perché mi immagino sia un po' tipo butterfly effect nel senso tu fai una piccolissima modifica in un punto e poi tutto il resto si deve riadattare in qualche modo esatto perché deve sempre avere un equilibrio esatto è un po' come con le sostanze psichedeliche deve continuare a sopravvivere deve funzionare sì deve funzionare lo stesso bellissimo sta roba ameteus grazie di essere passato bellissimo nuovo format super interessante buona serata grazie siamo molto contenti grazie sia con noi avremmo risolto gli sg latiti avremmo risolto i problemi di trapianto sai che figata adesso ti mette però per esempio col trapianto aspetta tipo ti mettono no non il cuore del maiale però ti mettono le valvole per esempio sai che non lo so la medicina non è più forte sicuro che ti mettono non mi viene la parola tecnica le valvole del cuore eh ma sono valvole mi viene la parola giusta sì diciamo la parola tecnica comunque sì ti mettono ah dice anche cuore e reni infatti vedi avevo questo ricordo però secondo me è un po' diverso cioè non è che stai dicendo al corpo di fare una cosa diversa lì metti già il prodotto finito non lo deve fare più o meno deve essere simile però cioè non è che ti mettono con un cavallo questo è importante perché tu puoi avere un prodotto finale abbastanza simile ma le istruzioni per farlo possono essere molto diverse vero sì 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 fighissimo un reni è stato trapiantato qualche giorno fa non mi ricordo bene eh tra l'altro oggi mi è venuto in mente che poi mi sono scordato di vederlo che un po' di tempo fa avevo visto un tizio che diceva che di fare un trapianto che avrebbe fatto un trapianto di testa e non so ah sì c'è stato un periodo che tipo uno è diventato io ero al liceo quando è successa sta cosa che c'era sto tizio che doveva fare un trapianto di testa un chirurgo mi ricordo tedesco o russo qualcosa del genere pelato io c'ho sto ricordo di sto tizio pelato comunque se Uccio è ancora qua e se non c'è uguale perché è molto figo questo esperimento 25 dovrebbe essere quello che mi ricordo praticamente è un esperimento lui lo chiama così l'universo 25 l'esperimento sull'utopia per topi che portò all'estinzione della popolazione praticamente è molto lungo io riassumo un attimo e poi andiamo a vedere nel dettaglio praticamente questo tizio ha fatto un esperimento tipo di sistemi complessi nel senso io gli ho detto metto un certo numero di topi mi sembra vabbè insomma diciamo quanti topi erano dentro un habitat fatto in modo tale che possa contenere molti più topi di quelli che io gli ho messo all'inizio ok e l'habitat è fatto in modo tale che loro non devono pensare un cazzo ci hanno da mangiare ci hanno da bere anche di più cioè proprio stanno come i pascià ok e lui li lascia là e vede che succede praticamente quello che succede è che ovviamente la popolazione aumenta no e tu che ti aspetti no tu nel senso diciamo cosa così uno si potrebbe aspettare che la popolazione cresce all'infinito no perché ci hanno da mangiare a sufficienza per tutti lo spazio c'è per tutti no e insomma dovrebbe crescere un botto in pratica quello che succede ora sto cercando i numeri per essere più preciso e allora adesso 5 aggiungendo ah esatto era fatta per poterci stare 3600 topi in totale dov'è? aspetta l'abitat avrebbe teoricamente permesso la sovvivenza 3800 topi e invece sono arrivati a 2200 esemplari poi hanno cominciato a morire perché alcuni esemplari non si comportavano più nel modo sociale normale perché non avevano più interesse per esempio a socializzare con gli altri quindi ad accoppiarsi non gli andavano manco più di mangiata alcuni quindi morivano di fame si cominciavano ad attaccare tra di loro e praticamente la popolazione è diminuita invece che crescere esponenzialmente e questo era se non mi ricordo male io l'ho sentito in un podcast qualche settimana fa e diciamo ragionava su sulla sovrappopolazione mondiale praticamente cioè che non potremmo arrivare cioè anche se avessimo risorse infinite non potremmo arrivare ad un numero grandissimo di persone sulla terra secondo me c'ha senso non è che dobbiamo prendere esempi topi però un po' c'ha senso se pensi a quante persone adesso vivono chiuse in casa in percentuale rispetto a una volta no? sì pensa fra se siamo 20 miliardi a un certo punto è interessante questo esperimento perché secondo me ci dice una cosa importante allora noi spesso ci dimentichiamo che gli adattamenti le caratteristiche degli organismi diventi si sono evoluti in certi ambienti ok cioè ad esempio la socialità soprattutto nei topi non dico nelle formiche che lì è un po' diverso perché è più geneticamente codificata non hanno tanta scelta i topi possono decidere se essere sociali oppure no dipende dalle caratteristiche ambientali cioè se loro ad esempio si trovano in una condizione in cui sanno che è meglio perché le risorse sono scarse sanno che è meglio fare gruppo lo fanno quindi dipende da come loro percepiscono l'ambiente ora se tu crei un ambiente in cui le risorse sono sempre presenti non c'è più quello stimolo che porta i topi a scegliere la strategia di essere sociali di conseguenza non lo sono più perché non hanno alcun incentivo ad essere sociali tra l'altro anche il fatto alcuni hanno anche smesso di mangiare perché cioè questo è interessante perché secondo me ci fa capire che cosa succede a un sistema biologico che è nato in natura dove in natura non c'è mai questo tipo di come dire tanta prosperità al punto che non ti deve fregare di niente non c'è non si è mai voluto quel sistema per funzionare bene invece in un contesto artificiale dove c'è sovrabbondanza un po' quello che ci sta dicendo questo esperimento in realtà più della sovrappopolazione ci sta dicendo se tu prendi un sistema complesso che è un organismo che si è evoluto in certi contesti cioè dove le risorse sono scarse in natura eccetera e lo metti in un altro contesto completamente che non ha mai incontrato si rompe letteralmente si rompe si comincia a funzionare male questo secondo me ci dimostra che questo è come se l'organismo fosse ottimizzato per certe condizioni ambientali se tu lo sposti siccome non può cambiare troppo comincia a fare cose che non dovrebbe fare non avrebbe mai fatto questa è la mia idea non lo so no no è bellissima questa analisi però mi viene un'altra cioè una cosa in più nel senso questa è assolutamente vero nel senso per me sugli animali però questo tipo di ragionamento secondo me sull'uomo non è necessariamente vero per il fatto che sai cosa ho pensato così ti faccio entrare nella mia mente ho pensato a un viaggio interstellare interplanetario ok andiamo da un'altra parte un viaggio molto lungo non su Marte stiamo parlando di cose di anni ok cosa succederebbe a una un'eventuale diciamo crew di persone che magari si può anche riprodurre sull'astronave eccetera non lo so in realtà è una cosa che sto a pensare con te non è che non c'è nessun riscontro scientifico però sto pensando c'è l'astronauta è una persona che diciamo è addestrata è normale che se ci mettono a me te davide matteo giorgia andati due tre amici ci scanniamo e moriamo subito perché è ovvio però diciamo sono persone addestrate quindi forse potrebbe funzionare diversamente probabilmente l'uomo è molto più plastico sotto questo punto di vista si sa adattare meglio degli altri animali agli ambienti che non ha mai conosciuto però ad esempio anche noi in realtà cominciamo a funzionare male se l'ambiente è troppo lontano da quello che ci aspettiamo in quello in cui ci siamo avvenuti ad esempio ti faccio un esempio cosa succede se io per sette per sette mesi ti chiudo in una stanza senza sentire neanche un rumore o ti faccio vedere sempre lo stesso colore una stanza dove guardi solo lo stesso colore cioè queste sono cose che in natura noi non abbiamo mai incontrato il nostro cervello non è attrezzato per questo tipo di evenienze tra virgolette e quindi noi sbarelliamo quando succedono queste cose sì ti viene la depressione in un certo senso sto pensando c'è gente che comincia ad avere allucinazioni se per troppo tempo non ha rapporti umani ad esempio sono stati fatti degli esperimenti l'estremo isolamento sociale può condurre a una persona oltre alla depressione ma anche proprio ad avere allucinazioni cioè che vede qualcuno con cui parlare poverino praticamente sì porca miseria scusa ma c'hai dei numeri nel senso dopo quanto tempo o è no non mi ricordo l'avevo letto ma non mi ricordo quanto tempo era passato cioè nel senso a me è capitato di stare beh però aspetta isolamento sociale completo no perché comunque c'è sempre il telefono quindi non vale quello è anche un'altra cosa che noi effettivamente una solitudine vera e propria non l'abbiamo mai provata tra virgolette no noi della nostra generazione la tua soprattutto sì noi io sto nel limbo perché io il telefono me lo so fatto tardi il computer non si usava come si usa adesso quindi sì la solitudine un po' c'era però secondo me la solitudine grossa grossa ce l'hanno avuta i nostri nonni che magari non avevano nemmeno la televisione capito che comunque io guardavo la tv loro manco quello quindi comunque volevo soltanto dire una cosa perché prima poi ho chiuso non l'ho più detta credo che la gente dice ma ok la curiosità su come si riproducono gli menotteri quando voi avete una regina che produce l'ovulo ok l'ovulo se l'ovulo non viene fecondato cioè non c'è spermatozoe solo l'ovulo si ha un maschio se viene fecondato quindi ha due copie del dna è una femmina cosa fa la regina si riproduce all'inizio con un maschio conserva lo sperma lo conserva per anche 20-30 anni vive così tanto? si ci sono regine che possono durare anche 20-30 anni in una camera specifica del suo del suo corpo che si chiama camera spermatica e quindi lei cosa fa? se lei percepisce all'interno della colonia che ci sono troppi maschi aggiusta il sesso dei figli cioè io faccio nascere adesso più maschi adesso più femmine semplicemente decidendo se aprire la camera spermatica e quindi fecondare gli ovuli e quindi fare femmine oppure tenerla chiusa lasciare l'ovulo che passa soltanto e diventa maschio quindi i menotteri sono in grado di controllare il sesso dei propri figli non hai detto scusa aspetta non sono sterili però la regina no 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 allora la regina non è sterile i maschi non sono sterili sono altre femmine che sono sterili nelle api e nelle formiche i maschi solitamente cosa fanno nascono si riproducono con la futura regina e poi muoiono non fanno nient'altro i maschi sostanzialmente ok tutto il resto tutte quelle formiche che voi vedete in giro a camminare sono tutte femmine tutte femmine tutte femmine sterili ah io pensavo che e quando è che si crea la nuova regina eh se ne creano tante in realtà regine quando ci sono le larve ad alcune larve ad esempio nelle api ci sono sai tipo quelle sorte di come che si chiamano in italiano le camerette sai esagonali dove ci sono dentro le larve e queste cose così ecco a seconda di come li nutrono loro una larva può diventare o un'altra operaia sterile oppure la può diventare la futura regina gli danno solitamente alla futura regina la cosiddetta pappa reale ok e poi loro una volta che sono mature escono fuori si riproducono con altri maschi e fondano la loro colonie da un'altra parte ah quindi se ne vanno cioè abbandonano la colonia ah ok e io pensavo che cioè che tipo lei la regina che generasse tutte femmine maschi tutte femmine sterili e poi a una certa succedeva qualcosa per cui si cambiava regina invece no cioè se muore la regina a un certo punto se muore la regina allora il problema è che perché queste società sono super complesse quello che succede spesso è che la regina emette delle sostanze dei feromoni che impediscono alle sue figlie di riprodursi cioè proprio le blocca blocca loro lo sviluppo delle ovaie ok proprio gli blocca lo sviluppo delle ovaie spesso cos'è che succede in realtà ci sono anche tanti altri processi ma non sto qui ciao Dan grazie blocca il lo sviluppo delle ovaie quando la regina muore viene meno anche questa sorta di blocco quindi molte più femmine diventano regine quindi cominciano in un certo senso a combattere per decidere chi avrà la meglio e una volta che tu hai la nuova regina di nuovo lei induce il blocco spara sti i feromoni e impedisce le altre sue sorelle di riprodursi ok ve l'ho detto sono stranissimi sono veramente strani assurdo sono proprio affascinanti Matteo ha messo i punti interrogativi ha scritto what secondo me è entrato e stavamo a farla delle regine che ammazzano le altre femmine sono molto strane lo capisco assurdo sì veramente affascinante come mondo allora rileggiamoci qualcosa Uccio l'ho preso il link ora dopo lo guardiamo volevo dire se mi sono perso qualcosa conserva lo sperma per 30 anni sì 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 assurda sta cosa Uccio aveva mandato la tortura del bianco questa l'avevo sentita pure io è un tipo di tortura psicologica volta alla completa privazione sensoriale dell'isolamento dell'individuo torturato il quale spesso il quale arriva spesso a perdere oltre ai 5 sensi anche ogni senso di identità si tratta di una pratica di tortura particolarmente utilizzata in Iran tuttavia ci sono prove del suso anche negli Stati Uniti vabbè pratica la tortura ok sono luce al neo risposta sottofitto voglio vedere gli effetti ah inutilizzi ho letto ho letto utilizzi ipnotici invece che utilizzi noti vabbè io sono dislessico quindi non ci fa caso non vedo veramente però mi autodico questa cosa però non dice gli effetti Uccio vabbè diciamo che è una cosa abbastanza brutta brutta ecco sì che ci fa sbarellare ci fa funzionare ma sì se tu pensi come ci sentiamo sentiti durante il lockdown e comunque ci avevamo tutto tutti i comfort pensa chiuso in una stanza tutta bianca senza nessuno sì sì decisamente ciao Dan eh Dan è una tonninna ma tu stavi dicendo alla triennale sì poi sei passato alla magistrale una certa poi sono passato alla magistrale e ho fatto una magistrale particolare perché non era in una singola università era un è un master interuniversitario che si chiama Meme che sta per Mundus Erasmus Master in Evolution che è fatto da quattro università partner che sono quella di Groningen in Olanda di Monaco in Germania Uppsala in Svezia e di Montpellier in Francia e poi c'è anche Harvard e Lausanne come altre due università e io ho fatto questi due anni un po' in giro per l'Europa sono stato il primo semestre in Olanda poi altri due semestri sono stato in Germania l'ultimo semestre sono stato sono stato in Svezia e lì ho fatto due tesi ho fatto una tesi a Monaco e una tesi a Uppsala e io adesso si spera che sto facendo domande di dottorato si spera che da qualche parte mi prendano così si può iniziare dove se posso chiedere non so se si no ho fatto domanda per adesso a Lausanne Lausanne in Svizzera ho intenzione appena si può perché lì ancora non è aperto però di farlo anche a Vienna che c'è una scuola genetica di popolazione e poi ce n'è un'altra che si è aperta a Monaco quindi proverò anche lì se ne sono aperte alcune anche Uppsala quindi proverò anche lì me l'ha detto il mio ex capo che gli stanno aprendo nuove posizioni di dottorato perché devono rinnovare sono fermi da un botto di tempo Uppsala e Svezia no? Svezia sì quindi vediamo ho fatto un paio di application non l'hanno mai cacato meno male fa troppo freddo sì lì si muore di freddo effettivamente ma tu sei stato aprirai mai un canale vai 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 leggi leggi no aprirai mai un canale Twitch spero di sì raga però vediamo cioè io purtroppo sono uno che se la tira alle lunghe vorrei comprare un'attrezzatura sensata cosa che farò perché devo farla ho procrastinato per troppo tempo sta cosa però sì mi piacerebbe anche aprire un po' un canale Twitch parlare un po' di religione filosofia quello che porto su TikTok portarlo anche su Twitch qui parlare di scienza lì magari parlare di quello di cui parlo su TikTok con meno rompi coglioni tra virgolette lati distruggeranno ancora di più in realtà perché qua è molto più libera la chat quindi no appunto perché più libera magari non ti segnalano subito lì su TikTok il problema è lì è quello capisci è vero certo sono tutti si offendono e bloccano tutte cose ban no qua è anzi qua è rischioso che ti massacrano di insulti però quello non è un problema mi possono massacrare gli insulti non mi scalfisci a te non ti scalfisce proprio se ti insultano zero nemmeno un po' a me un po' però non lo so a me quando mi fanno non più all'inizio non mi facendo un insulto personale tendenzialmente sui capelli un po' mi dispiaceva perché a me la cattiveria gratuita è un po' mi dispiace perché dico ma nel senso puoi dire che ho fatto schifo a raccontarti sta cosa e lo accetto però perché mi devi dire che so brutto sì ok quello ci rimane male pure io obiettivamente dire cioè offese personali poi me ne hanno dette su diciamo il mio orientamento quindi figurati ma poi alla fine della fiera sai cos'è che dico vabbè ma chi sei cioè non ti conosco cioè tipo ti chiami username 4506 cioè chi cazzo mi interessa che cosa pensi di me obiettivamente non ti conoscerò mai nella vita ok no ti hai ribloccato un attimo ma ti hai detto mic quante ne sai il pesce che non torna mai a casa il persico ma dove l'hai lette queste cagata grande ma ancora una pure quella sui daltonici mi stai scatenato micucci angelo lascia stare l'ironita tastiera si sa che sfogano le loro frustrazioni e basta per cui no ma infatti guarda all'inizio diciamo che c'è stato il problema del fatto che quando ho iniziato a fare il format su tiktok che funzionava c'è stata tipo un'esplosione gigantesca ed ero passato da pubblicare un video dove vedevano 30 persone a 400.000 capito e quindi era un po' che cazzo devo fa' e quindi quando ti becchi gli insulti era un po' strano però in realtà un po' i troll mi rompono però si quelli sono guarda oggi stesso ho ricevuto ho fatto anche il video che ho fatto dove vi ho taggato dove c'era il commento mi hanno detto li dicevo quotidianamente mi dicono che devo morire che la mia famiglia deve morire cioè ma perché obiettivamente poi vai a vedere i loro profili sono bambini capisci sono piccolini non sanno veramente quello che stanno dicendo in realtà si perché magari la mamma o il papà gli hanno detto che Dio è buono tu dici porco Dio oh non si può dire non è vero si può dire qua e quindi si straniscono no i troll in live sono un po' bruttini noi ce l'abbiamo avuto uno o due settimane fa a me Davide ci ha triggerato parecchio tipo cosa vi diceva no ma un cavolo in realtà cioè non mi ricordo qualcosa tipo che stavamo a perdere tempo dovevamo andare a lavorare le solite cose da boomer no a me da fastidio che tu devi interrompere il nostro discorso non so un canale tipo mo stiamo a cazzeggiare adesso io stiamo a chiacchierare quindi ci sta che uno scrive una cagata così magari cacchieriamo ridiamo però se io sto a parlare di fisica tu entri la stavamo a rispondere alle domande della chat seppure se domande in sacco complicate sulla relatività ristretta eccetera cioè mi rompi solo il cazzo che mi devi interrompere capito a me quello mi da mi da fastidio se vai in un canale dove stanno a fare un just chatting di cazzeggio ci può pure stare che magari trolli un po' ti fai due risate perché magari lo streamer sta a lavorare per divertirsi per quello capito sì sì un sacco lo fanno e si divertono con la chat a trollarsi a vicenda si insultano eccetera capito micpuccio io te voglio bene però stai spammando un po' troppo dai fa il bravo grazie che stai scrivendo molto affetto ectoplasmon ectoplasmon no fanno tutte ride però basta ma possono anche persi un giro grazie sgrt che mi difende poi lui è no sto dicendo un papà no potrebbe essere uno zio quindi mi sento protetto grazie che è del 73 l'ho scoperto ti prego ah del 73 ok ecco perché dice cose così intelligenti cioè grande le sale cose sì sì è molto grande ci segue tantissimo aspetta che hanno messo la clip non avete clipato me che bestemmio no bastardi la sapevo vabbè tranquillo dai c'era Diego che mi ha chiesto ora ti triggerò io cosa ne pensi del buddismo raga basta non ce la faccio più perché ci sono letteralmente queste tre domande che mi fanno ormai non so quante volte cosa pensi del buddismo cosa pensi del satanismo e cosa pensi della comunità LGBT cioè non so quante volte ormai mi hanno fatto questa domanda poi il buddismo ossessionati tutti da sto buddismo eh perché secondo me è la religione cioè per una persona che non crede diciamo in un dio potrebbe essere la religione scusa non ho sentito è quella più vendibile per una per una comunità laica sì esatto è un po' quella più più affascinante diciamo perché magari si cioè è un po' quella più vicina alla meditazione al contatto con la natura quindi c'ha un certo cioè io la trovo non sono un esperto però io la trovo affascinante e secondo me c'ha abbastanza più senso di del cristianesimo dell'islam sì quanto meno non c'hanno un dio nel senso il dio è madre natura fondamentalmente sì sì infatti il buddismo è super interessante io lo sto studiando in quest'ultimo periodo tra l'altro perché mi piace a me studiare queste cose anche mi sto seguendo non so se lo sai tu dici ora sei pazzo ma perché stai facendo una cosa del genere mi sto seguendo delle lezioni di Yale che sono su youtube quindi ognuno le può vedere sulla storia del nuovo testamento e delle prime cristianità sono arrivato alla lezione 7 sul vangelo di Tommaso e ce ne sono tipo come sono? no no sono molto belle a me affascinano queste cose poi lui è uno storico quindi ti racconta le cose proprio come sono andate come cioè proprio da un punto di vista accademico bellissimo quindi super interessante cioè giubbidi che dice infatti è un'altra cosa che avevo pensato il del taoismo invece? non lo conosco abbastanza bene per poter dare un'opinione onestamente poi volevo rispondere un attimo anche a Matteo che dice forse il termine religione è un po' malposto sì e no cioè in realtà il problema qual è il buddismo che noi occidentali lo conosciamo perché ci è stato esportato negli anni 70 e quindi noi lo abbiamo depurato in un certo senso da tutte quelle caratteristiche che però nei luoghi d'origine lui ancora ha ed è molto vicino a una religione lì dove viene praticato ad esempio in Sri Lanka nel Tibet in Giappone nel sud est asiatico ok lì effettivamente se tu vai a vedere le componenti metafisiche sovrannaturali ci sono poi cos'è negli anni 70 è stato esportato in occidente in una comunità in una comunità molto più cristiana da una parte è razionale no laica dall'altra e quindi lo hanno depurato è rimasto poco effettivamente del buddismo come praticato in quei luoghi e tutto si riduce quasi alla meditazione ormai mindfulness cioè sì quindi ci siamo è vero sicuramente meno pesante da un punto di vista dottrinale il buddismo rispetto al cristianesimo però anche lui ha i suoi rituali le sue metafisiche ad esempio la storia del karma il karma è proprio una forza cosmica che loro hanno dicono come funziona il mondo a livello metafisico no? e la considerano una forza soprannaturale in alcuni punti in alcune regioni soprattutto della Thailandia il buddha è visto come una divinità in realtà quindi sì e no diciamo sì sì io so sempre dell'idea che di alcune cose è bello prendere dei concetti per rifletterci no? e quindi lo trovo affascinante perché il collegamento mente-corpo è una cosa che per esempio le nostre religioni quelle più note scollegano totalmente no? e invece mi affascina tanto quindi ci sta micpuccio è ateo se vuoi ti consiglio un libro che analizza proprio la saggezza buddista su come funziona ci sei eh? mi ero bloccato vero? no 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 c'eri ah ok c'è un libro che parla proprio delle da un punto di vista scientifico delle cose giuste che ha detto il buddismo e che si chiama Why Buddhism is True di Robert White me lo sembra molto carino ok leggiti il commento di Matteo va? lo voglio dire anche ma in generale i modi di pensare i modi di vivere filosofia componenti dogmatiche componenti ragionate contratti sociali sensibilità umana peace and love teoria scientifica alla fine si dice religione in Italia si è pensato ad un'alternativa al cattolicesimo del tipo invece che Dio a cosa credi che è riduttivo non credo di molto cioè un attimo lo rileggo non mi riferivo nello specifico al buddismo ma in generale ai modi di pensare modi di vivere ah ok va bene sì sì nel senso che magari non ha senso riferirsi a religione nel senso uno può avere altri tipi diciamo che a prendere il posto delle religioni tradizionali non ci deve essere per forza una religione mettiamola così ci può essere anche una filosofia di vita un modo di pensare un modo di vivere eccetera eccetera sì 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 questo sono d'accordo per esempio le filosofie di vita dei popoli sudamericano tipo degli inca dei maya eccetera che magari si credevano un po' in delle divinità però era un po' più diciamo quella che poi hanno loro adesso tipo gli anziani eccetera più l'amore per la pace a mamma che sarebbe la madre terra no a me quelle cose affascinano tanto perché ha tanto coinvolgimento e rispetto per la natura mi piace molto quindi chiamarla una religione appunto è un po' non so se ma sai cos'è che in realtà il ha senso questa critica perché uno dei motivi per cui alcuni occidentali dicono che il buddismo non è una religione è proprio il fatto che ormai religione è diventato sinonimo di monoteismo cioè se un culto un credo una dottrina si discostano troppo dal modello abramitico quindi con una divinità principale eccetera non è più religione non vale la pena più chiamarla religione tra virgolette questa è una posizione un po' diciamo cristianocentrica no? perché uno può essere una religione può essere completamente diversa da non può avere anche non può avere divinità come nel caso di alcune tipo in alcune correnti del buddismo il confucianesimo può essere considerata anche una religione anche se non ha una divinità il problema qual è? che ormai religione per noi occidentali è diventato sinonimo di quello ci deve essere una divinità per essere religione sì è più una una figura che metterei forse la cosa più generale si potrebbe di filosofia di vita o una cosa del genere diciamo no? cioè ha detto in breve tutte le cose chiamate religioni non sono omogenee e paragonabili spesso si è quello che hai detto tu infatti e Uccio dice Siddharta è un libro che ho letto ma non mi è piaciuto molto come ha scritto ma la trama e il finale non sono molto belli e lo proprio è il concetto dell'unità Siddharta è il libro di Ermanesse non lo so io me lo ricordo perché ce l'aveva mamma sul comodino però mi sembra io di Ermanesse non ho letto soltanto Narciso e Boccadoro e me ne ha piaciuto però non ho letto Siddharta Ermanesse sì è questo qua ciao Cassettiera buonanotte grazie di essere stata con noi e ah tra l'altro facci sapere poi come come è la situazione dell'amichetto che sta sempre insieme a noi che lei c'ha avuto una un'amica una compagna di classe che è positiva e stava in quarantena però non credo che che lei abbia avuto sintomi perché non ci ha detto niente ah no non me lo ricordo a domani sei ancora a casa mi sembra che un giorno c'avevi un po' di mal di pancia o mal di testa però avevamo detto che era più l'ansia eh sì perché ovviamente ah la martiala una domanda per Orazio forse stupida non ci sono domande stupide sono malposte cosa ne dici del fatto è andata così morto motorna motorna intanto io me la leggo una domanda per Orazio cosa ne pensi del fatto che l'essere umano è in grado di trattare la riproduzione anche solo come piacere sessuale a differenza ah bellissima questa domanda se torna la argomentiamo la argomentiamo eh Cassettiera mi dispiace dai spero che ti sei almeno riposata mentalmente eeeh così vediamo se no ok tu devi studiare le guerre puniche da Mario a Silvia ma donna io comunque raga cioè di storia romana non so proprio un cazzo eccolo scusate non so che cosa è successo non vorreste domani mi interroga non so un cazzo e Uccio non andare a scuola deve studiare delle guerre puniche a Mario e Silla che io non so nemmeno dire sia tanto poco ma immagino che se tu sei preoccupato sia tanto perché sei una bomba quindi ci sei io ci sono ok la Martiala ha fatto una domanda molto bella e secondo me con questa domanda potremmo anche arrivare verso la conclusione vediamo perché potrebbe essere anche lunga cosa ne pensi del fatto che l'essere umano è in grado di trattare la riproduzione anche solo come piacere sessuale a differenza degli animali che agiscono solo allo scopo di procreare senza soffermarsi sul loro piacere in sé e secondo me la seconda parte è anche malposta perché non è vero infatti non è propriamente vero ad esempio alcuni primati si masturbano a vicenda si fanno si praticano anche della fellazio tra nei bonobo lo fanno ad esempio tra maschi e poi i delfini no? che stuporano gli altri pesci per piacere sì magari c'è nel senso sì nel senso tra l'altro questa parola mi sa che non si può dire quindi non la ridire ok cacchio mi sa che non si può dire quale delle due? quella che fanno i delfini che ho detto ah ok ok sì beh in realtà ripeto spesso vedi degli animali che fanno cose soltanto per provocarsi piacere soprattutto le scimmie ad esempio i bonobo lo utilizzano come un modo per dissipare le tensioni se tu hai due maschi che si stanno si stanno cercando di si disputano qualcosa spesso utilizzano di farsi rapporti orali oppure di toccarsi i genitali per dissipare la tensione mentre gli scimpanze sono più violenti e se le danno di brutto i bonobo hanno scelto di più invece facciamo sesso sì 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 forse lei non voglio mettere le parole in bocca però forse facciamo che è più un ragione dove sto a fare io forse diciamo la differenza sta nel fatto che magari noi lo facciamo con amore nel senso con l'affetto però mi posso anche rispondere da solo a questa cosa cioè è semplicemente causa della capacità intellettiva maggiore cioè secondo me pure gli animali provano affetto tra di loro in un certo senso o no probabilmente sì probabilmente gli animali soprattutto i mammiferi provano direi le formiche no magari i mammiferi primati in particolare sicuramente provano dell'affetto l'amore poi raga non è neanche così cioè l'amore è un'intellettualizzazione di un sentimento in realtà l'amore esiste soltanto nel pensiero perché i sentimenti dell'amore in realtà sono già sentimenti di affetto che noi poi ci costruiamo sopra delle enormi storie diciamo l'innamoramento ma è perché noi abbiamo questa coscienza che ci fa guardare dentro certo certo Matteo ti banno eh perché definisci amore no Matteo Matteo era per scherzo sì secondo me il discorso è un sacco complicato per cui l'ho detto che è una domanda è una domanda banale a cui rispondere e tra l'altro hai detto anche una cosa ma non voglio prendere un tasto eh troppo violento però che non mi ricordo se i bonobo o qualche altra scimmia si fanno la fellazio tra maschi i bonobo sì 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 in realtà loro fanno stesso un po' con tutti tra di loro questa è la marcia della gente che dice che è contro natura perché la natura eh la natura sa molto che ci abbia fatto nel tiktok eh eh cioè io quando sento che è contro natura gli direi io ho visto un sacco di volte cani e divertirsi tra loro tra maschi cioè penso che cioè se a meno che hai vissuto veramente in una città gigantesca senza animali però se hai vissuto un po' nella veriferia cittadina o in campagna in Italia hai visto sicuramente un cane che si scopava un altro cane maschio cioè sicuro l'hai visto lo fanno i leoni tra di loro lo fanno i moscerini della frutta lo fanno addirittura anche le stelle marine le stelle marine sono bisessuali raga che bello brave cazzo liberissime ma infatti i bonoboli hanno creati le lobby in laboratorio sicuramente sicuramente è stata l'ideologia gender ciao Diego buono studio di analisi in bocca al lupo ciao ciao io direi andiamo andiamo sì le undici e mezzo diciamo che abbiamo trattenute mi dispiace che non sono riuscito a mostrarvi tutto quello che volevo mostrare però la prossima volta lo posso possiamo parlare effettivamente del succo della questione non la mia ricerca tanto la presentazione è fatta e sicuramente la prossima settimana mi vedrete con meglio di così fidatevi poi magari ti do qualche dritta su come migliorare la webcam il microfono secondo me poi pure andata tranquilla beh qua la webcam non è che si può migliorare tanto perché è quella del computer eh no poi ti dico io come fare il computer poi parliamo infatti sulla presentazione volevo dire a loro e a te tu conta sempre quando tu fai una presentazione e dici dura dieci minuti dura due ore perché la situazione è così perché o ci mettiamo io e te o ascoltiamo te che tu parli però poi non ha senso sia per te che per te non è una lezione esatto sì sì ma è noioso pure per te perché alla fine è stato bello secondo me rispondere alle domande se c'è una discussione molto interessante quindi dai perfetto vediamo di raidare qualcuno intanto se la chat o tu però tu non hai twitch aperto quindi no se qualcuno mi dice qualcuno da raidare se no vado io cosa significa e non so cosa sia tu quando sei su twitch in live puoi andare puoi mandare tutte le persone che sono in live con te da un'altra persona cioè li attacchi praticamente raid nel senso della parola quindi loro dalla nostra live finiscono direttamente sulla pagina dell'altro streamer dell'altra streamer ed è una cosa carina che si fa tendenzialmente cioè fai raid infatti cerco sempre canali che hanno numeri piccoli come i nostri così ti capito magari loro vedono questa persona interessante la seguo e qualche volta capita che lo fanno anche a noi capito oppure lo fai per fare la merda noi non l'abbiamo mai fatto per fare ci sta chi fa tipo i raid per un bel cazzo alla gente che sta a fare lo streaming capito però tendenzialmente siamo sempre carini io non trovo nessuno quindi direi che o se no possiamo andare a raidiamo diventi nation vaga a me piacciono un sacco staranno sicuramente giocando a dnd loro giocano a dungeon center con il live e sono bravissimi proprio bravissimi niente allora sta per partire quindi andiamo io un attimo e ci vediamo domani sera con Lorenzo e ecco te parte quando ti pare e poi comunque sicuramente mercoledì prossimo non so che è successo ma mi sono bloccato non lo so va bene ci siamo però va bene ciao a tutti buonanotte buonanotte ciao ciao